Ogni tanto bisogna prendere e scappare, non da qualcosa in particolare, ma certamente dalle proprie routine, dai propri pensieri, dalle proprie abitudini. Ho scoperto solo di recente la possibilità di scegliere di fare qualcosa che mi fa stare bene, di ritagliarmi del tempo per recuperare energie, aria in testa persino. Oggi ho attraversato un tunnel di pensieri e ancora una volta, come ad agosto, è sembrato di dover girare semplicemente l'angolo per arrivare a destinazione, dove tutto cambia, dove tutto assume un altro aspetto, dove i pensieri si perdono tra il vento degli alberi altissimi.